Ad un anno dalla terribile alluvione che ha messo in ginocchio Roncali e le frazioni confinanti sono terminati i lavori delle due aree di espansione che dovrebbero mettere in sicurezza la zona. Realizzati dall'Agenzia Interregionale del Po con un importo di 490 mila euro, gli argini che si estendono per quasi due chilometri tra Roncali e Borghetto raggiungono in certi punti i due metri e mezzo di altezza. Abbiamo costruito un'arginatura che con il suo sviluppo dovrebbe contenere le piene del torrente Nuro in questo tratto. In pratica si tratta di due argini separati a ridosso della strada provinciale per corte maggiore che si sviluppano in corrispondenza del ponte e poi un tratto risale verso monte e un tratto va verso valle fino a raggiungere il canale diversivo est dove sono in corso altri lavori analoghi del Consorzio di Bonifica. I 40 mila metri di terra sono stati prelevati dal fiume Nure adiacente che allo stesso tempo è stato ripulito e allargato. Abbiamo utilizzato il terreno che era all'interno dell'alveo, in questo modo abbiamo avuto un doppio beneficio perché da una parte abbiamo allargato la sezione del Nure togliendo una parte anche dei materiali trasportati dalle piene. Quindi il fiume avrà un letto più largo e nello stesso tempo non abbiamo comprato il materiale per costruire le arginature. Quindi economicamente abbiamo avuto un buon vantaggio. Inoltre per costituire al di sopra dell'argine una pista percorribile con dei mezzi anche durante e soprattutto le emergenze abbiamo messo della ghiaia, anch'essa prelevata all'interno dell'alveo del Nure. Entro la fine dell'anno inoltre dovrebbero partire i lavori di sistemazione degli argini a Boscone tra Calendasco e Rottofreno. La zona interessata è in corrispondenza più o meno dell'abitato di Boscone e faremo l'innalzamento di quota dell'argine e l'adeguamento della sagua. In pratica dobbiamo allargarlo per fare in modo che nei confronti delle piene, anche quelle più importanti del po', l'argine sia adeguato come struttura.